Ciao, sono Cinzia De Falco, esperta di local marketing e Google My Business, autrice del libro Storie di local marketing. In questo podcast ti darò spunti, idee, strategie e consigli per avere la fila fuori al tuo negozio e per far andare al massimo la tua attività di business. Buongiorno e ben ritrovati, sono Cinzia De Falco, voi siete su Marketing per negozianti, soluzioni vincenti per attività locali. Ricordiamolo come sempre, Marketing per negozianti è il primo ed unico podcast italiano relativo alle vostre attività sul territorio. E questo è il nostro solito martedì, come sempre puntata speciale, perché vado a rispondere in particolare alla domanda di Deborah. Mi fa piacere rispondere a questa domanda proprio perché spesso ritrovo tantissima confusione, ovvero parliamo di nome dell'attività sul profilo Google Business. Quale deve essere questo nome? Perché spesso mi ritrovo la ragione sociale in un modo, su Facebook vi chiamate in un altro, su Instagram ancora in un altro, sulla scheda Google Business Profile, addio, si spegne la luce nel cervello. E invece no, siamo qui per fare chiarezza. Quando compilate il profilo business, quindi il profilo Google della vostra attività, dovete assolutamente utilizzare il nome commerciale, quindi la ragione sociale corretta della vostra azienda. Ma semplicemente per un motivo super valido, cioè essere facilmente identificato e soprattutto riconosciuto sia da Google sia dagli utenti che cercano. Voi immaginate se io ad esempio vi seguo su Facebook, su Instagram, conosco il vostro sito web, poi faccio una ricerca da Google e la vostra scheda Google Business Profile ha un altro nome. In quel momento mi viene un attimo di confusione, no? Inizio a pensare, ok, ma sono loro o non sono loro? Stiamo parlando della stessa attività oppure no? Nel momento in cui confondiamo l'utente lo abbiamo perso e, ancora peggio, nel momento in cui confondiamo Google ci penalizza. Quindi assolutamente qual è il nome che avete inserito sul vostro sito web? Qual è quello che avete inserito sulle vostre pagine social e sul blog e nelle directory di settore? E più in generale su qualsiasi altra piattaforma del web che parla di voi? Parola d'ordine, coerenza. È in assoluto la caratteristica preferita di Google e quindi va accontentato. Quindi il vostro sito web, la vostra presenza sui social, il blog, le citazioni sulla vostra attività, tutto deve avere lo stesso identico nome che deve corrispondere alla ragione sociale della vostra attività. Non potete pensare di utilizzare un nome sui social, un altro sulla scheda Google Business Profile, un altro ancora nelle community o nei gruppi che avete creato. In questo modo, ripetiamo, rischiate soltanto di confondere gli utenti e soprattutto Google che vi penalizzerà e non sarà clemente in questo. In ultimo, questo se mi seguite da tempo lo sapete ma mi piace ribadirlo, non affiancategli mai le parole chiave. A meno che la parola chiave non fa parte proprio della vostra ragione sociale, loro in quel caso sì, ma altrimenti no perché questo metodo non funziona ormai da molto tempo, anzi potrebbe rivelarsi dannoso facendovi apparire come spam perché chiaramente è una forzatura, Google se ne accorge e ci punisce. Quindi Deborah spero di aver risposto in maniera esaustiva insomma alla tua domanda, spero di essere stata come sempre da esempio e da monito per tutti gli altri. Se non avete fatto in questo modo allora andate a correggere subito la vostra scheda Google Business Profile. Io invece adesso mi godo il mio caffè, godetevi anche voi il vostro caffè, vi auguro una bellissima giornata e io invece come sempre vi aspetto al prossimo martedì. Ciao! E come sempre mi